Sono bastate poco più di due ore di pioggia intensa, bomba d'acqua o acquazzone che dir si voglia per mettere nuovamente alla corda in alcuni punti ormai tristemente sempre gli stessi la viabilità fanese. Speriamo che gli annunciati lavori al Lido per una grande cassa di colmata mettano definitivamente una pietra tombale sulle auto bloccate nel sottopasso o nei suoi pressi sotto oltre 20 centimetri d'acqua dove anche via Cairoli è stata trasformata in un ruscello in piena. Non sembra aver pace nemmeno la zona della stazione dove si sono ripetute le immagini delle biciclette affogate per metà ruota nella scura acqua piovana con i passanti e i viaggiatori che erano costretti a prendere in braccio le loro valigie per non vederle galleggiare come gusci di noci nello stagno. Idem in via Mameli dove tra buche e acqua la vita è davvera dura o in via a Fraghetto nei pressi dello zuccherificio. Vigi del fuoco di Fano impegnati grazie a Dio in modesti interventi. Si registrano allagamenti in pochi centimetri d'acqua di alcuni scantinati nel quartiere della Paleotta dove anche qui il copione tristamente noto delle strade allagate si è ripetuto per l'ennesima replica. Uscendo dal perimetro cittadino i vigi del fuoco sono stati chiamati ad intervenire per rami pericolanti e sulla sede stradale nel tratto di strada che va dall'uscita della superstrada di Calcinelli verso Montemaggiore poco prima del ponte sul fiume Metauro.